Oggi vi presento il kit Viva l'estate, quattro prodotti indispensabili per le nostre giornate estive e insieme ai quattro prodotti il nostro bellissimo beauty. Il kit prevede la crema spray anti zanzare, il latte solare protezione venti, l'emulsione dopo sole e il bagno dolce tonificante. Il latte solare protezione venti contiene filtri solari minerali, quindi completamente naturali, bio, che proteggono la nostra pelle ma rispettano anche l'ambiente. I filtri solari minerali fanno uno schermo totale, quindi riflettono i raggi UVA e i raggi UVB che arrivano appunto sulla nostra pelle, fanno da barriera e riflettono senza creare sensibilizzazione alla pelle. Inoltre il nostro solare contiene dei principi attivi dalle nostre proprietà lenitive e antiossidanti. Il latte solare protezione venti resiste all'acqua, quindi siete protetti anche durante i vostri bagni. Consiglio però, se fate bagni prolungati, di riapplicare ovviamente quando tornate in spiaggia, di riapplicare il latte solare per una protezione più sicura. Dopo l'esposizione solare abbiamo bisogno sicuramente di tonificare e energizzare la nostra pelle con il nostro bagno doccia tonificante e dopo il bagno doccia ovviamente prendiamoci cura della nostra pelle e manteniamo la bronzatura con una buona emulsione dopo sole. La nostra emulsione dopo sole contiene sempre principi attivi, lenitivi, antiossidanti, idratanti per mantenere una pelle nutrita e idratata e una protezione, con duratura dopo l'esposizione solare. E sappiamo che in estate, nel tardo pomeriggio e sera purtroppo ci sono le zanzare, quindi per proteggerci dalle zanzare Midas ha formulato una crema spray anti zanzare che è un prodotto meraviglioso perché sono due prodotti in uno, quindi fa sia la prevenzione che la post puntura. Se noi l'applichiamo sulla nostra pelle, ovviamente è in spray ed è un'emulsione fluida, si assolve molto velocemente ed è nutriente, idratante, ma è soprattutto un repellente naturale perché contiene citronella e geranio. Se dimentichiamo di metterla e veniamo punti, grazie all'olio di andiroba agisce proprio come post puntura, quindi va a allenire il ponfo, quindi si applica sul ponfo e non sentiamo più il fastidio e il prurito. Ovviamente la nostra crema spray anti zanzare è stata studiata per le pelli sensibili ed è indicata per la pelle dedicata ai nostri bambini.